Siamo stanchi, siamo stufi, molto. È pesante come situazione per tutti, specialmente per i bambini. Io lavoro in pizzeria, quindi per me sarebbe meglio che a Pasqua fosse tutto aperto, però sinceramente è meglio aspettare un attimino. Non è possibile, un anno che siamo dentro, almeno a Pasqua dovranno lasciarci liberi, però se questo sacrificio serve a qualcosa, che ben venga. Sicuramente, anche a livello psicologico, è sicuramente pesante, però diciamo che alla fine sono d'accordo su quelle che sono le misure. Ci sono tanti infettati per fare così, è un altro sacrificio poi, non so. Facciamo quello che ci dicono e speriamo di finire presto questo momento. Mi adeguo alle normative vigenti e non possiamo fare altro. È giusto perché qui le cose si aggravano, è sempre peggio. Vaccini e zona rossa, perché la gente non capisce niente. Ma ho la sensazione che ancora non abbiamo imparato dai nostri errori, cioè ci muoviamo a chiudere sempre con un tantino di ritardo. È veramente molto faticoso stare, insomma, nelle restrizioni. Secondo me è stata veramente gestita male molto la cosa. Sì, ma tanto siamo tutti stanchi, però purtroppo è così. Quindi cerchiamo di essere positivi e andiamo avanti.